Per grazia di Dio e della Sede Apostolica, Vescovo di Lundro, degli Ita-Balpadesi dell'Italia continentale, al diletto fratello in Cristo, Papà San Gelo Prestigiano, pace, grazia e benedizione da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, il Revedenissimo Papà San Gelo Ferragli, parrocos della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli, in magia albanese, necessita di un vicario parrocchiale, volendo assicurare un sostegno di collaborazione nella cura pastorale della suddetta parrocchia, «Visti i canoni 301 e 302 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali ed esplettate le consultazioni e le indagini ripetute opportune a norma del paragrafo 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, nominiamo te, vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli, in magia albanese, dove hai dei diritti e doveri connessi all'ufficio, nonché delle facoltà concesse dai canoni 301 e 302 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, ma hai la facoltà generale di assistere ai matrimoni e di poter, a tua volta, subdelegare di caso in caso. Allora, hai cura di osservare tutte le altre norme vigenti del diritto catodico delle Chiese Orientali e del diritto particolare. Sono certo che svolgerai il tuo ministero con un senso sacerdotale e che sarà aiutato da grande carità masterale per la gloria di Dio e per il bene delle amiche. Lungro, dalla nostra sede verso l'idea, primo giugno 2014, domenica dei Santi Padri del primo concilio ecumenico di Dicea, donato Oliverio Vescovo, pronto presbitero Mario Aluisse Cancellieri. Grazie.